Musica Abbiamo fatto una gran partita, siamo stati lucidi, concreti Abbiamo fatto qualche piccola sbavatura durante i set che abbiamo vinto perché potevamo chiuderli prima Però abbiamo fatto veramente un partitone e adesso dobbiamo riazzerare la testa perché Giochiamo contro Modena e si sa che ogni partita con loro è una guerra Quindi giovedì dovremo scendere in campo e dare veramente l'anima E per questo vorrei chiedere a tutti i tifosi di esserci giovedì, di riempire il palazzetto, di farlo esplodere perché ne avremo bisogno Mi hanno giocato tutti molto bene, devo fare i complimenti a Mitter perché oggi è stato veramente devastante E sicuramente ci ha dato una grossissima mano, quindi bravissimo Mitter Grazie a tutti